Era giunto un momento, dopo 6-7 mesi che la Nazionale Signores non lavorava, era normale che ci fosse questo primo preso di contatto con il nuovo staff e io sono contento che la federazione mi abbia permesso di usare più di 26 persone per vedere un po' tutto il movimento e anche le ragazze che giocano all'estero come Irene, Fantonne, Angela Cappellaro, oltre che Giulia Fabbo che conoscevamo già. Quindi grazie per questa opportunità. Ho fatto una full immersion da quando ho preso questo incarico, ma era chiaramente molto meglio per me vederle sul campo e chiaramente dopo questo stage, anche se ci sarà qualche entrata ancora per controllare ancora meglio il nostro panorama, credo che avremo idee più chiare, cosa che ogni staff tecnico deve avere per poter poi proseguire il percorso. Il primo step da un punto di vista agonistico, sportivo, rappresentato dai giochi del Mediterraneo, quali sono invece gli step nella testa di Beppe Tedesco di crescita di questa Nazionale? Quello che ho detto ieri nella prima riunione che abbiamo avuto con le ragazze che fanno parte di questo gruppo è che vogliamo creare un'identità di gioco. Questo è un primo step per noi, noi dobbiamo pensare a come poter affrontare tutte le squadre e poi sappiamo che abbiamo una posizione in classifica nel ranking internazionale non delle primissime, ma noi dobbiamo apprestarci a scalare questo ranking. La scalata non si fa con dei balzi, si fa gradualmente, noi cerchiamo di avere le nostre idee, di portarle in campo e di crescere su queste idee. Questo è quello che ho detto alle ragazze, bisogna che pensiamo a questa Nazionale come una squadra, non la somma di tutte le squadre da cui provengono. L'organico che sta lavorando qui a Chieti è un organico molto ampio, come dicevamo, 26 ragazze si va dalle più esperte alle 2.500 addirittura, quindi hai unito praticamente tre gruppi di fatto, le tre nazionali dalla più piccola alla più grande. Che nazionale vedremo poi quando sarà definita? Io credo che non ci sia da aver paura di mettere dentro anche le ragazze giovani. Noi dobbiamo vedere una nazionale la più disponibile a capire i concetti di squadra che stiamo cercando di portare dentro e anche quella più talentuosa perché non è detto che un 2005 non possa giocare anche a livello internazionale. Sarà semplicemente una scelta di quelle ragazze, di quelle giocatrici che interpreteranno meglio il gioco e su cui noi abbiamo prospettiva.